Un rigore di Cochimano al sessantesimo del secondo tempo condanna la Nissa alla settima sconfitta su dieci gare giocate in questo girone di ritorno. Partita contratta, con ambe due le squadre che hanno giocato con la paura di lasciare punti importanti per strada. Alla fine l'hanno spuntata i padroni di casa che con questa vittoria sui biancoscudati approfittando del pareggio dell'Akragas sono da soli in testa alla classifica. Con questa sconfitta gli uomini di Alessio Sferrazza rimangono sempre in una posizione di classifica a rischio con sole tre lunghezze dalla zona play-out, aspettando la prossima gara del Tomaselli contro il Don Carlo Misilmeri, gara che probabilmente si giocherà sabato 18 per dare spazio alla sfida di Serie D tra Canigatti e Catania. Intanto l'imprenditore Luca Giovannone con una nota dalla pagina Facebook della società ha rinquirato la squadra dopo la sconfitta del generale Gaeta, invitando tutti i tifosi a venire alla partita di sabato prossimo per sostenere la squadra e conquistare punti salvezza, annunciando anche la sua presenza. Eccellenza, girone A, 25esima giornata. Castellammare Acragas 1-1, Don Carlo Misilmeri Mazzara 2-5, Enna Nissa 1-0, Nuova Città di Gela Oratorio San Ciro e Giorgio 1-1, Profavara Sciacca 1-0, Resuttana Leonfortese 3-1, Mazzarese Parmonval 7-0, Cus Palermo Casteldaccia 3-1, La classifica Enna 61, Acragas 59, Profavara 54, Don Carlo Misilmeri 47, Mazzarese 44, Mazzara 42, Sciacca 38, Casteldaccia e Nissa 28, Oratorio San Ciro e Giorgio 26, Castellammare Leonfortese 25, Resuttana e Nuova Città di Gela 23, Cus Palermo 22, Chiude la Parmonval a 8.